Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos, sta attraversando un momento difficile a causa di una psicosi transitoria acuta. Attualmente si trova in una comunità per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, il re dei paparazzi si gode le vacanze con la fidanzata Sara Barbieri, in attesa di un bambino, ma il suo pensiero è sempre rivolto al figlio. Carlos ha già completato un percorso di sei mesi in comunità e sta continuando il suo trattamento. Ha avuto alcuni permessi speciali, tra cui la possibilità di trascorrere del tempo con il padre per il suo compleanno e di andare in vacanza in Sicilia. Tuttavia dovrà rimanere in comunità almeno fino a gennaio. Fabrizio Corona ha rivelato che Carlos ha un ottimo rapporto con Sara e che è entusiasta all'idea di diventare fratello a dicembre. Riguardo a Nina Moric, l'ex paparazzo ha sottolineato l'importanza del suo comportamento nei confronti di lui e del figlio. Attualmente i rapporti sono buoni e Corona si complimenta con Sara per la sua dolcezza, sensibilità e intelligenza. La famiglia sta affrontando questa situazione delicata, con speranza e determinazione, sperando che la situazione migliori e che i rapporti rimangano positivi. Carlos è al centro delle attenzioni e riceve tutto il supporto necessario per superare